di dito alla signora che non domande la faccia dhe 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 approf speaking add occasionali mi serve subito mi saluto certo scusate ma voi siete avvocati e sto un cavocato non ci vede sono avvocati civili e penali e voi con questa faccia con questa figura ma se andate a fare l'avvocato 7 a bicicletta 8 a pascal state a vedere che può fare la popola no, lasci voi io la posso fare la popola per riferire l'avvocato e la lingua deve essere buona se non si può vicino e la lingua deve essere buona mi fanno conto mi fanno conto vengo sabato vengo subito vengo, io voglio sapere padre io voglio sapere a te, a te, a te take the te, te da' tanta scuffere te, te da' tanta fonte io voglio essere spiato ma ma perché sono da pilare io voglio essere spiato dico, acquati e attori acquati e attori E' purtroppo è l'epa lì Quante? Dove mai? Ma tu sei un servito? Nooo, sono con te noi Sei un servito? E tieni un'educazione E tieni un'educazione Ossino parlerò Parlerò, parlerò Parlerò, detto sì E' un'educazione E' un'educazione E' un'educazione E ti faccio tagliare il salto Anzi no, ti faccio mangiare le sequenze E io lo so' passato E che te ne faccio cacciare le sequenze Io sono Carlo Terzo E io sono Vittorio Emanuele Io sono Carlo Terzo Io ti posso piegare pure a pasta una gorgia E poi non posso piegare Ma non va che capo che la fantasia E ti piegare a pasta una gorgia E ti ha giurto la pippa si loca Trezzi a cuore E ti ha giurto la prima La seconda, la terza e la cuore E poi avvengiamo E poi avvengiamo E fatto fatti figli E fatti fatti tu Scostumato Scostumato Grazie 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 Grazie